credici 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 il venerdì dà tutte le risposte guardami 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 ti dico di sì se accettano proposte credici 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 il venerdì dà tutte le risposte guardami 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 ti dico di sì se accettano proposte bella dai energica molto pop welcome to the new friday video benvenuti ciao lovini benvenuti al nuovo video merdi sul canale di fisica della fisica che ci piace dove imparare fisica matematica e essere allegri essere vivaci imparare nuove forme di apprendimento migliorare se stessi è un gioco da ragazzo allungato un po il payoff ma non fa niente oggi parliamo delle ore di studio quindi un video dedicato a tutti gli studenti italiani e non per poter capire quante ore di studio è necessario fare al giorno e soprattutto la domanda di oggi è un'altra in realtà la domanda di oggi è è possibile diminuire il numero di ore di studio studiando comunque bene cioè mantenendo la qualità dello studio la risposta è sì seguendo tre passi un attimino seguendo tre cose che dovete fare e che io facevo quando ero ragazzo quando andavo alle scuole superiori perché chiunque mi conosce può testimoniare una cosa può dire una cosa io non ero un secchione io non ero uno che studiava tanto io sto parlando delle scuole superiori e attenzione io ero uno che studiava giusto anzi a volte studiavo anche poco rispetto a quanto dovevo studiare però rendevo attenzione questa è la cosa importante cioè i risultati arrivavano mi sono diplomato con il massimo i miei docenti che ho avuto a non ricordo di me meraviglioso bellissimo quindi ho fatto dei b 5 anni scuole superiore ho sputato tantissimo allora però prima di parlare della mia esperienza di quali sono le tre cose alle quali devi fare molta 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 molto caso per poter diminuire il numero di ore di studio faremo proprio la proporzionalità inversa tra il numero di ore di studio e queste tre cose ho fatto proprio il grafico molto molto matematica questa questo video del Verdi prima di fare questo naturalmente votate la meravigliosa sigla spumeggiante che ha avuto il suo perché oggi devo dire la verità i voti consentiti sono 1 3 5 7 9 10 10 lode 10 lode menzione speciale 10 lode menzione speciale bacio accademico e 10 lode menzione speciale bacio accademico premiazione su venere ok votate ora un due tre fatto ok dicevo prima di passare i tre punti parlo della mia esperienza personale vincenzo alle scuole superiori io ho fatto lo scientifico e ho fatto il conservatorio contemporaneamente quindi andavo a scuola al liceo la mattina e il pomeriggio in conservatorio ragazzi viaggiavo in pullman mi spostavo in pullman pullman che non era sempre disponibile quando io finivo a livello di orari quando io finivo molto tardi in conservatorio a volte finivo alle 7 di sera e l'ultima corsa da monopoli a castellana era le 5 del pomeriggio quindi insomma mia madre veniva da castellana mi veniva a prendere e ritornavamo a casa passavo moltissime ore fuori casa quindi avevo la cosiddetta scrivania del pomeriggio dello studio io ce l'avevo poco a disposizione perché molto spesso ripeto ero in conservatorio specie specie il quarto anno di liceo perché in quarto anno io ricordo che facevo il quinto di conservatorio e dovevo fare quarto e quinto anno di liceo sono stati più duri perché facevo quinto e sesto di conservatorio io ho saltato un anno ho fatto primo secondo poi ho saltato fatto l'esame era un esame specifico esame di conferma se non ricordo male si chiamava che mi ha fatto passare direttamente al quarto in quinto di conservatorio ho preparato l'esame di diploma inferiore di violino perché lì sono dieci anni di violino c'è l'esame in quinto in ottavo e in decimo quindi è stato un anno impegnativo il quinto di conservatorio nel sesto anno di conservatorio io comunque ho dovuto cominciare a fare armonia storia della musica oltre che studiare naturalmente violino orchestra faceva un sacco di materie canto corale facevamo anche e facevo il quinto di liceo quindi di esami maturità cioè ragazzi eppure eppure il numero di ore di studio che io dedicavo perché il numero di ore che dedicava lo studio non era così tanto io non studiavo tante 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 ore ma veramente cioè vi giuro davvero ma perché succedeva questo cioè che cosa facevo durante cosa facevo durante la giornata specie perché stavo fuori sono costretto a prendere la lavagnata perché facevo le cose che adesso vi dirò e che vi racconterò cioè guardate ho fatto un grafico sulle ordinate il numero di ore di studio e sulle ascisse invece tre cose fondamentali per fare sì che il numero di ore possa possa diminuire e che si possa rendere lo stesso nello studio perché quando trovate i video io una volta feci un video che nominai studiare bene e velocemente in realtà è stata quella una furbata nello scrivere studiare bene velocemente perché non si studia velocemente si studia semplicemente bene poi il numero di ore che voi dedicate allo studio quello dipende da voi cioè quello dipende da come siete voi da come vi organizzate e da come se fate queste tre cose che io facevo quali erano le tre cose che io facevo che mi faceva diminuire il numero di ore di studio quindi mi permetteva di arrivare a casa e respirare e studiare quello che dovevo studiare in meno ore rispetto a stare sui libri tutta la notte ed essere esaurito la mattina già ero esaurito per i fatti miei quali erano le tre cose quali sono le tre cose per diminuire il numero di ore di studio quindi più fai queste cose meno ore di studio di 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 meno ore devi dedicare allo studio quindi c'è un'inversa proporzionalità proporzionalità inversa ting chissà se mi ricorderò di mettere questo allegato se non lo farò dopo aver visto la premiere attenzione in classe buoni appunti uso dei ritagli di tempo avast leggiamo una alla volta l'attenzione in classe non c'è niente da fare metà dello studio di una determinata materia lo fai in classe lo fai in classe credimi te prego se il professore spiega dice ma il professore spiega male e tu butta ti fagli le domande istigalo istigalo dai poi non diciamo che tutti i professori spiegano male perché non è vera sta cosa qua allora mettiamoci in una situazione media il professore sta spiegando sta facendo la sua lezione partecipata frontale non lo so sta spiegando quella che poi la lezione che vi assegnerà io quando ero studente io stavo non attento di più in classe ero ipnotizzato dalla lezione nulla mi distraeva dalla lezione e non lo facevo attenzione io non lo facevo perché ero interessato a tutte le lezioni no almeno io non amavo tutte le materie a scuola amavo alcune materie alcune mi stavano no non piaceva però dovevo studiarle appunto era un dovere no imperativo categorico cant devi perché devi dovevo studiarle punte basta stop l'attenzione in classe mi faceva risparmiare tempo io contemporaneamente carpendo informazioni e scrivendo quelle informazioni vi prego voi state perdendo la capacità di prendere appunti che gli appunti sono un'arma potentissima saper prendere appunto non che il professor deve dettare il fungo è verde scrivete tutti il fungo è verde no devi prendere appunti il tuo cervello deve lavorare e quando il cervello lavora mentre lui spiega e tu scrivi gli appunti tu stai studiando tu stai studiando in quel momento stai studiando riflettici un attimo stai studiando stai buttando giù materiale il tuo cervello sta già acquisendo elaborando informazioni quello è lo studio perché lo studio lo dobbiamo etichettare come una cosa da mettersi alla scrivania il pomeriggio e basta e la mattina a scuola ci sia quello che ci sia ciao quindi l'attenzione estrema in classe il prendere buoni appunti che vuol dire prendere buoni appunti ma io non so prendere appunti no ragazzi mettiamoci d'accordo allora io ho fatto un video sugli appunti qua sto spargendo video in questo video del venerdì non li allegherò sicuramente lo farò magari dopo come prendere buoni appunti ding guardatelo questo video io ne ho già parlato gli appunti sono una cosa personale ma io ho una brutta scrittura tu hai una brutta scrittura va bene sì d'accordo ma tu gli appunti di riprendere per te non li devi prendere per genoveffa che deve studiare tu atto tu devi studiare appunti i tuoi appunti possono essere mappe i tuoi appunti possono essere schemi parole chiave disegni alzi la mano blocchi un attimo io devo scrivere questa cosa importantissima prof può ripeterla per favore gli appunti sono una cosa molto personale e il prendere appunti è fondamentale vi prego non vi non vi private di questo anche perché arrivati all'università è una tragedia è una tragedia perché cambia ecco se io non sto descrivere ve l'ho detto scuole superiori ho detto all'università cambia allora all'università che succede ti devi allenare cioè ti devi allenare le scuole superiori sono un po una palestra a quello che farai all'università dove tutto diventerà un po più complicato no anche a livello di seguire delle lezioni ci sarà più roba io poi ho parlato in altre lezioni di come ho fatto una lezione anche questa ve la lego il cambio fra il liceo e l'università che cosa cambia fra il liceo e l'università guardatevelo ding bellissimo fra l'altro un video in cui ho raccontato anche lì quello che è successo a me quando sono passato da liceo all'università all'università si è più indipendenti diciamoci la verità io molto spesso mi trovavo a fare esami a sostenere esami che non avevo seguito quindi che ho preparato da solo vabbè ma non voglio andare fuori traccia voglio soltanto dirvi appropriatevi della vostra capacità di cominciare ad elaborare quello che dovete studiare già in classe anche scrivendo anche disegnando anche tratteggiando anche leggendo contemporaneamente dal libro mentre il professore spiega io non vedo mai per esempio gli studenti cioè aprite il libro il professore sta spiegando di solito il professore non spiega pagina 126 e 126 aprite il libro aprite il libro a pagina 126 e 126 mettetevelo là e mentre lui spiega buttate in occhio al libro dice ma quante cose dobbiamo fare contemporaneamente noi siamo delle macchine potentissime noi utilizziamo lo 0,001 per cento del nostro cervello noi possiamo fare un sacco di cose quindi quello che mi pizzica il naso da morire quello che dovete fare non accontentarvi di quello che fate ma fare di più spingetevi perché la mente si abitua il cervello cambia modalità io non ho mai preso appunti inizia io non riesco a prendere appunti durante quel professore perché quel professore spiega male che dobbiamo fare e che dobbiamo fare qui ti sei già reso se tu dici questa cosa quello spiega male quindi io non prendo appunti e io non lavoro in classe tanto spiega male non sto attento e vabbè ma questo è un cerchio che si chiude ci hai rinunciato ti sei fermato non vale la pena non vale la pena allora il tuo numero il tuo numero di ore di studio dovrà essere molto alto perché dovrai recuperare tutto quello che non è successo in classe perché ovviamente io queste tre caratteristiche che sto descrivendo si applicano possono essere applicate in secondo me nell'ottanta 85 per cento del contesto lezione poi ci può essere un 15 per cento di situazioni in cui il professore spiega male non spiega dice studiate chi se ne frega penso situazioni molto borderline io lo dico sempre questi professori non dovrebbero essere a scuola dovrebbero essere da qualche altra parte a fare altri mestieri e non a ripiegare sulla scuola perché siccome non non mi sono buttato su altro nella vita ho fatto un concorso e faccio il professore però io dico l'ottanta 5 per cento delle persone di fronte alle quali ci troviamo sono professori che lavorano bene punto poi la capacità di essere super seduttivi nello spiegare è una cosa lo spiegare in maniera corretta ma a modo proprio senza questo senso di seduzione no di empatia che si può creare è un altro discorso punto questa era più importante usare i ritagli di tempo io ero pieno di ritagli di tempo un ritaglio di tempo le supplenze ne vogliamo parlare delle supplenze che succede durante le supplenze quando a me mi è capitato di fare anche qualche supplenza i ragazzi non fanno niente però noti 2 1 2 che stanno studiando perché quell'ora a quei 45 minuti in mezzo al casino fra l'altro è un ottimo training cercare di studiare in mezzo al casino ottimo training ottimo perché se studi in mezzo al casino vuol dire che ci sei vuol dire che sei concentra ora di supplenza 2 ritagli di tempo che significa io molto spesso aspettavo alla fermata del bus del bus aspettavo lì l'arrivo del bus per tornare a casa aspettavo lì e studiavo mi mettevo a studiare sul noi abbiamo in puglia i muretti a secco mi ricordo a monopoli il muretto a secco in via castellana io poggiavo il culo sul muretto a secco aprivo i libri e studiavo quello era un ritaglio di tempo mezz'ora tre quarti d'ora un'ora ha detto niente un'ora a fa che gran fortuna grande fortuna quando io ero ragazzo questo non ci stava non c'era adesso io lo vedo siamo non siete siamo tutti così quando stiamo aspettando il bus che deve passare stiamo aspettando un passaggio dobbiamo andare da qualcosa siamo dal dottor siamo dal dottore adesso non c'è più la fila dal dottore però siamo in situazioni in cui abbiamo i ritagli di tempo noi siamo così magari l'un per cento di quelle persone sta studiando dal telefonino è per carità però dai non diciamoci chiacchiere l'un per cento vogliamo proprio esagerare il 99 sta facendo niente sui social sta chattando quelle persone cioè quello è un ritaglio di tempo devi studiare c'hai da studiare utilizzalo quel tempo è peccato altro tempo che io avevo quando arrivavo in conservatorio io mi ricordo che non sempre iniziavo la lezione in orario molto spesso succedeva che iniziavo 20 minuti 30 minuti dopo io mi andavo a trovare una stanzetta una cosa dove poter studiare mi ricordo anche una stanza che era in conservatorio con una porta di vetro dove le persone andavano a fare una specie di zona riunioni zona caffè che era a disposizione anche di noi studenti con le macchinette del caffè con i distributori io mi sedevo là e studiavo dice ma tu stavi sempre a studiare non è vero non è vero io semplicemente distribuivo quelle ore di studio durante la giornata ecco perché diminuisce il numero di ore semplicemente perché tu stai studiando lo stesso numero di ore ma le distribuisci in momenti in cui non studieresti dice vabbè ma il numero di ore è lo stesso non ci siamo non è quella l'equazione che devi fare io ti sto parlando di quando poi torni a casa cioè se tu durante il giorno sei distratto in classe non prendi appunti devi fare tutto da capo quando sei in giro devi prendere i mezzi devi fare questo quell'altro non sfrutti quel tempo che hai a disposizione tu te ne torni a casa e se devi fare bene le cose devi studiare cinque sei ore ma ti deve andare bene io non studiamo mai cinque sei ore me lo ricordo benissimo eppure mi sono diplomato con il massimo dei voti a scuola eppure ho fatto l'esame di maturità fantà meraviglioso i professori hanno un ricordo di me stupendo e io ho un bel ricordo di loro però in un altro video poi vi dirò altre cose sull'atteggiamento che bisogna avere da studenti quando si affrontano le interrogazioni eccetera eccetera ne parleremo in un altro video però qui ecco è stato importante fare porre l'attenzione su il tempo da distribuire durante la giornata in modo che le ore di studio a casa diminuiscano il più possibile credetemi funziona it works believe me try this couple of months and then you're gonna you're gonna you're gonna be like vincenzo you were right avevi ragione è vero allora ragazzi adesso mi dovete scrivere voi quante ore di studio dedicate scrivetelo nei commenti quindi ditemi se se per se vi capita già di fare quello che io facevo quando ero studente quindi queste tre regole per diminuire il numero di ore di studio a casa ditemi un po se questa cosa funziona l'applicate già se aggiungereste un quarto quinto punto qual è la vostra esperienza da studenti e mi interessa anche sapere nei commenti alcuni di voi che sono passati all'università avete avvertito il cambiamento sì o no scrivetelo cioè c'è stato un cambio proprio nella qualità dello studio quindi proprio materialmente quantitativamente nel numero di ore che è aumentato scrivetelo sono curioso perché per me è stato così ma vediamo un po fra le altre cose io all'università continuava a studiare in conservatorio perché quando ho cominciato l'università facevo il settimo anno di conservatorio quindi ho fatto settimo ottavo non e decimo io ho continuato a studiare in conservatorio mentre facevo i primi anni di università è stata veramente dura veramente dura però ce l'ho fatta sono vivo e c'è sotto non c'è niente da fare c'è sotto il senso di organizzazione di distribuzione di lavoro di fare sì che la mente questa cosa che abbiamo qui dentro il cervello questa meravigliosa questa meravigliosa materia grigia che abbiamo deve essere sfruttata as much as we can il più possibile più più che possiamo vi mando un bacio ci vediamo venerdì prossimo per il prossimo video e verdi vi lovo assai stimo e vi lascio con questi due video uno dedicato alla solitudine ed il secondo dedicato agli amori tossici alla prossima let's out let's out let's out let's out